Ciao a tutti sono Spiegeramutato e benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale Come vedete è finalmente arrivata l'action camera Domani probabilmente uscirà la puntata di Spiegeramutato Tech in cui faccio l'unboxing e la recensione Ora passiamo a Happy Wheels Allora, visto che è la prima volta che registro con la camera da una vita intera passata Vi rinfresco la memoria Allora, la camera sta qui, Happy Wheels sta qui, qua giù ho il timer Perciò a certe volte mi verrete abbassare lo sguardo ma non vi preoccupate è normalissimo, tutto normale Poi dovrete abituarvi a vedere il mio gigantesco nasone Tra l'altro è storto, guardate bene, guardate la linea per via di un disguido ma quelle sono altre cose E adesso passiamo subito a Happy Wheels Allora, mettiamo, mettiamo, mettiamo rating come al solito Aggiorniamo, non ho ancora ricomprato l'headset tra l'altro Allora, iniziamo subito da... Direi... Seagway... Seagway Scamper, che cacchio ha detto? Non lo so Go! Oh mer... Ma che cazzo? Va bene, ricominciamo Muovi quel culone metallico! Ok Oh mio Dio, ma come cazzo? Ok, ok, devo saltare, saltare, saltare What the fuck? Ah, pensavo... Oh mio Dio, oh mio Dio! E ce la fa, e ce la fa, dai, dai Porca puttana! Corri! Muovi il culo, muovi quel culone metallico! Citazione Dai! Dai, ce lo fa... Porca puttana! No! Le gambe non ti servono, lo sai che le gambe non ti servono? Puoi farcela, non fa niente Non ti servono, non ti servono neanche le... Braccia Il nostro caro amico non può vivere per sempre Manda anche tu un messaggio al 455 Ok, basta Dire di cambiare subito Andiamo a... A, 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 a... Jet guy challenge Dai, facciamo una challenge A proposito, con questa camera potremmo fare tanti di quelli challenge che non avete idea Noob Ah, non avevo capito bene il senso Ah, ho capito che cosa devo fare Devo soltanto... Porca puttana! Ce l'ho fatta! Eeeh... Ok, ok, stiamo inaugurando bene Bene L'era della camera Andiamo avanti Ho anche imparato a non usare la rotellina Che bravo che sono Andiamo avanti Andiamo a... Eeeh... Spikefall Ci sto prendendo la mano con le spikefall Se l'avete notato negli ultimi video No, no, è vero Non è vero Non è vero Sì, no, no Non proprio Allora, adesso ce la faccio Adesso ce la faccio Devo andare proprio Eeeh, banana Troppo veloce Banana Allora, vediamo un po' se ce la faccio Lentamente Sì Sì Sì, ce la posso fare Ce la posso fare E ce la faccio E ce la... We are... Ok Ok, devo calmarmi Devo calmarmi Devo gestire la rabbia Gestire la rabbia Gestire la felicità Passiamo a... Direi... Forcefield X What the fuck? Ah Io ne farei... Ma è una cazzata da fare What the fuck? Pensavo qualcosa di più... Di più... Di più... Composto Andiamo a un bel parkour Come fai se c'è un parkour? Non è parkour Questo brutta zoccola Senza... Senza denti No, da Non l'aspettavo Pensavo... Ma, fa più Beh Ah, no Questo ci devo riuscire Sono difficili questi livelli Perché sono un mix Di diverse Tecnologie Ecco Tipo Tipo Qua cosa devo fare? Reggermi? Non lo so Porca puttana Oh, cazzo Mi sono appeso Mi si stacca... No, ok, ok, ok Cadi, cadi Fuck Arrampicati Ok Buttati Che morbido Eh Ah Beh, sì Per me Niente di così Particolarmente difficile Eh, sì Andiamo avanti E facciamo un bel Don't No Create a face Qualcosa di... Ball throw Dai, ball throw Sono sempre più belli Sono sempre i più belli Tranne quando muori Next Non so Ah What the fuck is this? Ah, sono tipo di minigiochi Eh, porca puttana Press Z Muoi No, mi... Oh, cazzo Ah, mi piacciono Mi piacciono i minigiochi Tranne quando sono una pippa E mi vado a incastrare in questi Dai, ce la puoi fare Sei magro Sei magro Sì 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 Dai 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 Scivola, bastardo Sì Scivola Aspetta Aspetta Sì Sì Bravo Olè Oh, merda Eh, qua come cacchio faccio ora io? Ma secondo te? Ehm No, no, no Ma questo livello è palloso Quindi andiamo avanti Schipiamo un bel po' Facciamo, facciamo, facciamo Facciamo, facciamo Facciamo Svord Svord Scusate Svord throw Molto figo Olè Boom Boom Anche Babbo Natale Sì, tanto muore Non esiste Babbo Natale Scusate, vi ho spogliato alcuna cosa Ciao Olè Eh, mamma mia Che proata Quella proagine L'ho stato Porca puttana Puro Puro Cari, cari bastarda Eh, ce la fa Non so perché faccio così Ehm, non so Devo trovare un simbolo Che mi simboleggi 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 Simbole Simbole Oddio Aspettatemi Vabbè Svord throw HD Eccomi, scusate un attimo Cioè, scusate Per la pausa piccolissima Facciamo un bel Pogo jump Dai, pogo jump Non l'abbiamo ancora fatto Pogo, pogo Very easy Mamma mia Mamma mia Vediamo un po' le Non riesco a fare neanche questo Siamo messi bene Avete scelto un youtuber perfetto Proprio Oh mio dio Cioè, so fare i livelli difficili Ma non so fare quelli semplici Legge del Del coglione Spiga98iano Allora, un bel salto qui E Bla A proposito di Spiga98 Ultimamente Come vedete Sto saltando molte volte I video Cioè, nel senso Certe volte mi capita Di non poter Registrare Quindi caricare i video Tutti i giorni Purtroppo Eh, non dipende da me Dipende da quello Che ci assegnano Cioè Se una persona Una professoressa O un professore Non posso fare i nomi Non posso fare Nessun tipo di distinzione Quindi Un professore Barra professoressa Che insegna una materia Letteraria Barra non Barra Barra Letteraria Non può Spiegare Mentre interroga Cioè Ci capiamo Allora Come posso spiegarvelo Cioè Non può fare Un'ora di interrogazione E poi mentre sta interrogando Il nuovo argomento A tutta la classe Si mette a spiegare Un altro nuovo argomento Cioè Non fai tempo a studiare L'argomento Che ne sta già dando un altro Perché Allora Mi girano un po' E poi Non ho il tempo Per fare entrambe le cose Cioè Studiare il nuovo argomento Studiare quello vecchio Che poi Il nuovo però È vecchio Perché è il penultimo Argomento che ha spiegato Contando che ne spiega Uno al giorno In questa In questa maniera Insomma Non rende la vita facile E in più Ma sono uno sfigato Però eh Ce lo devo fare Si Si No Zà Non ci posso credere Ma vaffan Cuore Vaffan Dai L'ultimo L'ultimo livello E poi finisce il video Perché Ho pochissimissimo tempo E devo caricarlo Entro dieci minuti Vi dico solo questo Scusate Oh merda Eccomi Io direi di fare Io direi di fare Matrix Impossible Impossible Ma che Oh merda No aspetta Il banco Il tavolo Il tavolo Si Si Ce l'ho Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta E con questo vi saluto Io sono Spigalantato Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi Condividete Mi trovate sempre su Twitter Google Pass O sul mio sito Spigalantato.ml O su Facebook Digitando Facebook.com Spigalantato Io sono Spigalantato Ciao a tutti Ci vediamo nel prossimo video Qui sul mio canale Ciao Ciao